Due dirigenti medici dell'ASP di Reggio Calabria sono stati denunciati dai finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e di false attestazioni della presenza in servizio. I due si assentavano sistematicamente senza alcuna valida ragione dal lavoro per rientrare presso le proprie abitazioni oppure per recarsi al supermercato o alle poste per poi rientrare in servizio solo allo scadere del turno per timbrare l'uscita con il badge, certificando falsamente così la loro presenza in ufficio. Le indagini svolte dalle fiamme gialle della Compagnia di Palmi sono partite dalla denuncia che segnalava le loro frequenti e sistematiche assenze presso la struttura territoriale dell'ASP di Reggio Calabria, fatto aggravato dalla responsabilità derivante dalla qualifica di dirigente dei due medici nell'ambito della struttura sanitaria. Da qui l'interdizione per 12 mesi e il sequestro delle somme indebitamente percepite quale retribuzione delle prestazioni lavorative attestate ma mai svolte.